Si avvicina il carnevale canigattinese, però la gara relativa all'affidamento dei servizi collegati, annessi alla manifestazione, è andata deserta. Voi quale procedura state eseguendo? No, già nell'immediatezza, fin da ieri, abbiamo attivato la procedura che è prevista dal codice dei contatti pubblici, che qualora vi fosse una gara deserta, aveva la possibilità di fare una gara sulla base della necessità e urgenza a trattativa privata. Per cui sono stati ieri stesso fatti tutti i provvedimenti necessari per approvare lo schema tipo della lettera d'invito e il capitolato speciale di appalto. Abbiamo invitato delle ditte, la prossima gara è stata fissata per venerdì alle 11, mentre la scadenza delle buste è per venerdì alle 10. Sulla base delle risultanze di questa nuova procedura adotteremo gli atti conseguenziali. Comunque ci sarà sempre la possibilità, come prevede la normativa vigente in materia, di poter addivenire all'acquisizione della fornitura dei servizi con le modalità previste dalla norma che sulla base delle risultanze delle varie fasi procedimentali adotteremo gli atti che la legge prescrive e che noi seguiremo pedissequamente. I servizi per la buona riuscita del carnevale saranno comunque effettuati e la fornitura sarà posta in essere, ad eccezione fatta che nessuna ditta vorrà fare i servizi, ma a quello non penso. Se parliamo di crisi noi diamo la possibilità di poter avere una fetta di lavoro, noi speriamo che le ditte partecipino a questa gara che ci diano la possibilità di concludere tutto entro lunedì. Sì, resteranno pochi giorni, ma comunque il tempo per noi in questo frangente non è un ostacolo, perché lavoreremo senza sosta, purché tutto si concluda nei termini necessari per poter attivare l'inizio della manifestazione così come programmata. Se anche la gara di venerdì andasse deserta, voi procederete con l'affidamento diretto? Andremo a fare un sondaggio di mercato per procedere all'affidamento diretto ai migliori offerenti di ogni singolo servizio. Quali sono i servizi prepisti? I servizi sono tutti i servizi server, audio, luci, i servizi di ambulanza e di sicurezza, il servizio vigilanza e sicurezza notturna per i carri e i servizi di pubblicità. Alcuni già sono partiti, anche la vostra emittente fa parte del circuito della pubblicità della manifestazione, unitamente all'altra emittente locale e poi i servizi delle luminarie artistiche lungo il percorso della sfilata dei carri.